allora per natale devo prendere un chilo di amore voglio scrivere la lettettina a babbo natale caro babbo natale per natale vorrei ricordati che l'umiltà è la cosa più importante da per 6 a 5 ma che sei matto costa troppo mi chiamo chi tu abbia babbo natale allora in realtà quest'anno babbo natale è un po in crisi e quindi noi genitori lo aiutiamo economicamente tramite l'otto per mille cioè gli mandiamo dei soldi capito perché il covid è arrivato pure a casa sua si si ha voglia gli elfi hanno preso il covid e anche le renne mamma gli animali non prendono il coronavirus no no aspetta loro hanno preso il corenna virus che cos'è è il covid delle renne corenne vabbè quindi e quindi forse babbo natale deve venire con una renna sola e non può apportare tutto il peso capito la playstation 5 pesa troppo no ma la playstation 5 non pesa si ma costa ma ma mica babbo natale compra lui li fa i regali ah si si non lo sapevo un filo di patate poi orrei che ne pensi di un pigiamino una palla una coca cola le jordan ma che sei matto costano 300 euro le scarpe di michael jordan amore michael jordan è morto quando è cinque minuti fa purello hanno detto che ha morto e quindi non vogliono più vendere le sue scarpe per commemorare il suo ricordo vabbè allora cambio vorrei la cucina ma babbo natale mica lavora da mondo commedienza mamma guarda che la cucina giocattolo si chiama cucinando impariamo ma se vuoi cucinare imparando amore c'è benedetta fatto un casa con benedetta su youtube a tutte le ore gratis mamma sei materialista guarda che l'ho chiesto a babbo natale mica l'ho chiesto a te così tu non spendi tutti quei soldi vedi quanto sono giudizioso figlio romio io ho cercato di fartelo capire in tutti i modi ma c'è una cosa su babbo natale che devi sapere cosa non solo impaurire che per via delle regole del cori di quest'anno è obbligato a tenere i guanti e visto che li crea lui e visto quando siamo al supermercato con i guanti non riesci nemmeno ad aprire il sacchetto dell'ortofrutta figurati a costruire un gioco oh no allora quest'anno a babbo natale chiedo solo le caramelle davvero sì ecco qua per babbo natale bravo amore sono fiera di te ma mamma quindi me lo fai tu la playstation 5 ho visto questo amazon giochi sono fatti grazie mamma grazie a tutti